Murillo provoca quindi, provoca il tifoso, provoca i giornalisti, crea una situazione per potersi caricare, per poter caricare l'ambiente, quindi così lui ha fatto questo tipo di conferenza stampa. Non credo, però io ne parlo anche dal tifoso, che siamo così distanti di altre squadre e tutt'altro, però credo anche all'esperienza dell'allenatore che vede, che mette in campo i giocatori e quindi ha la necessità di capire esattamente qual è il tipo di giocatore di cui lui necessita di più. Io quindi da questo punto di vista lo seguo, vedremo poi qual è la realtà, quindi non ci sarà bisogno di miracoli, io credo, come non è stato un miracolo la vittoria dell'anno scorso, come non è stato positivo invece tutta la Coppa dei Campioni, quanto sia nei primi binari che da fare, non è stata una gran Coppa dei Campioni e quindi credo che non sarà difficile e non miracoloso fare meglio dell'anno scorso in Coppa dei Campioni. E poi vedremo, credo che tutti partano per vincere, ma con molta attenzione a non fare errori, è importante non fare errori. Mettiamo la Champions League in testa e desideri di Massimo Moratti all'inizio di questa stagione? Sì, 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 io non è che la Champions League sia in testa e a fare, credo che la Champions League sia la nostra portata e quindi non voglio alibi.